Tanto ho scoperto in questi giorni, frequentando gli uomini dell'ADM, devo dire tanto, veramente, sinceramente, ho rimasto molto colpito dal grado di competenza, efficienza, di modernità, nel senso che appunto, come diceva Milai Ministro, uno magari ha l'idea che i bolli, invece no, proprio c'è una modernità assoluta, una competenza, una visione di sistema davvero straordinaria. Ho scoperto però che anche la difesa deve fare dogana. La difesa, sì, perché anzi, diciamo che durante la pandemia l'attività di ADM ci ha consentito di continuare a fornire la componentistica per la nostra industria della difesa, e voglio ringraziare ADM da un lato, l'industria della difesa, i lavoratori che nell'anno che sta alle nostre spalle hanno, come dire, di aver consentito continuità su una dimensione strategica della nostra produzione, perché ha a che fare con la nostra sicurezza e ha a che fare anche con la nostra base tecnologica, che è un pezzo della nostra sovranità. Quindi grazie ADM, grazie al sistema delle imprese della difesa e grazie ai lavoratori.